Benvenuti in questo nuovo video in Roblox, inizio correndo, siamo tornati nella mappa di calcio, i nostri calciatori preferiti ovvero noi stessi Dobbiamo salire subito su perché abbiamo praticamente un evento dove l'obiettivo è segnare da più lontano possibile una sfida tra me e Fere Vedremo chi riuscirà a fare il gol da più lontano, però la cosa bella è che devi fare tutto un parkour per arrivare il più lontano possibile Fare il gol e fare il punteggio massimo possibile Ma che modo è di iniziare un video? Lo so, però l'evento se no scade non possiamo più farlo Ti posso chiedere quanto tempo manca perché io non ho il timer dato che hai iniziato tu l'evento al posto mio ed è per colpa tua che puoi fare l'intro così Allora, il problema è che io il timer lo vedevo sulla porta Ah, se quelli a porta, 40 secondi Come 40 secondi? Devo andare ancora più in fondo Aiuto, aiuto Corri Come faccio? No, io tiro da qui No, ti accontenti Prova a tirare Posso fare solo un tiro? Opla, non lo so, lo sai? No, ne posso fare più di uno, quindi uno l'ho fatto e adesso continuo a salire Ok, allora sono caduto, dovrei risponare da qua Facciamo, proviamo a fare il gol da qui Ho fatto un tiro sbagliatissimo, però comunque è gol e ho fatto quindi la più lontano di fare Andiamo avanti Ti spacco la faccia Devo vincere Guarda qui No, sono caduto di nuovo, sono un piloniere Ma qui l'imbalza, come faccio? Allora, devi mirare Allora, da qui sopra, da qui sopra È impossibile fare percura a questa velocità Proviamoci Mi devo accontentare Quanto manca? No, 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 stop, è un tiro terribile Non lo so, ho tirato Allora Penso tre secondi, due, uno Dimmi che entra il mio pallone No, ti frego, non è entrato Non è entrato Perché è arrivato giù quando mancavo secondo Ho vinto 11.000 gemme E io 8.000 chic Quindi ha vinto Stef Ok Allora Benvenuti in questo video Scusate l'intraggitata Non ha neanche pagato bene Siamo tornati nella mappa di calcio Come potete vedere Abbiamo iniziato con questo evento sfida Molto carino Che però aveva il tempo limitato Qua vedo che c'è lo stadio del Manchester City Voglio andare a vederlo immediatamente Andiamo a vederlo? Sì È un'aggiunta nuova secondo te Sì Perché ci ha dato il badge Però vedi che praticamente No Siamo di nuovo lenti E c'è anche l'evento No, io l'evento non lo faccio più Non lo fa più l'evento No, basta Allora Voglio giocare normale Ok, praticamente mi dà delle gemettine Che sono specifiche di questa zona Ok E infatti come vedete Mi ho già 617 Con 10.000 compri la zona numero 2 Dello stadio del Manchester City Che figa la collaborazione però Allora Quindi io se vado qua Mi posso potenziare Ok È tutta una nuova È come se rinizi Però è tutto a tema Manchester City Sì Perché è come se fosse tutta una nuova mappa Sì È bellissimo Solo che non voglio farla in questo momento Ero pronta a fare il rebert là Così poi mi prendevo le scie Dei tre rebert Un sacco di cose Le scie Sì le scie No però Allora Allora io voglio dire una cosa Posso dire Cioè immaginatevola se fosse Della vostra squadra preferita Guardate ci sono le sciarpe a tema Esatto Il Lammascott Cioè è una collaborazione fighissima Esatto Bravi Bella Bella idea Mi è piaciuta Complimenti Pollice in su Allora io volevo dire Non di like al video Pollice in su Io alla mappa Capito Sì ho notato Ok Sono felicissima di essere qui oggi È felicissima Perché questa insieme alla gas station È la mia mappa preferita di Roblox Ho capito Cioè questa è la gas station Uguali a per il livello Sai che la ridici ogni tanta volta E l'hanno già capito tutti Cioè voi non avete idea Che io passo le giornate Ogni volta che tipo Nel nostro calendario Nella nostra agenda personale C'è scritto Oggi dobbiamo fare le rec Di tipoc Mi sono pure incartata Io a Steph faccio Ma dobbiamo registrare la gas station Dobbiamo fare la mappa del calcio Ogni volta Glielo chiedo Già Come avete detto Steph guarda che è anche il teletrasporto Però io il teletrasporto Riesco usarlo solo per tornare Non per andare in avanti Sì pure io Non ho capito come lo intendete Comunque tanto va bene Anche in questo modo Torniamo nella luna Il nostro obiettivo è continuare a fare il Robert Quindi ci mettiamo qua E facciamo i gol Dimmi Lo sai che ho aperto un botto di casse Di quelle della zona del razzo Ok Ho trovato tipo 5 palloni uguali Ok Li ho mixati Mi è uscito un pallone fortissimo Eh beh E sei molto brava Grazie Complimenti Mi sono spaventato di questa storia Allora andiamo a vedere però la scia delle rinascite Quella voglio vedere Subito Allora vediamo Eh ho sbloccato i 3 Robert Possiamo fare un'altra bella rinascita Con 218 milioni Perfetto Allora ne posso comprare solo una Compriamola Ho già 240 mila con il primo gol È bellissima sta cosa Allora devo controllare se i bigliettini ne ho abbastanza Purtroppo no Quindi potrei prendere i moltiplicatori del resto Ma io non lo farò Io piuttosto aspetto ancora E continuo a potenziare il mio moltiplicatore Questo qua Quello delle monete Che secondo me è il più importante di tutti Ehm Volevo dirti anche una cosa Ok Ehm Aspetta che mi potenzio Sì sto potenziando il pallone con i Con le scie del Bello Allora Ho fatto Eh Mi è diventato infuocato Il pallone Sì è un lucky block però il mio pallone Cioè vedi Bellissimo Non mi stai anche guardando L'odio Allora quindi Potenziamoci subito Sei accorta che non la stavo calcolando Mannaggia Ma ho già 2 milioni E sono nella prima zona Cioè se segno da qua Che il per 2 è 8 milioni Va bene E' tutto così normale Qui non vedo niente di strano Come 8 milioni E' stranissimo 8 milioni è la prima zona Facciamo così Facciamo così Uh pure io ho fatto 2 milioni e mezzo Per un tiro Perfetto Ci sblocchiamo le varie zone Volevo dire che voi potete andare In edicola Prendere i nostri bellissimi squishy E utilizzare Sto dicendo Ascemenza non so cosa dirvi Voi in edicola Trovate i nostri squishy Super mega bellissimi Da squishare Da collezionare Da avere Da far vedere a tutti quanti Dire guarda che belli Che sono E sono pure profumati Tu invece puzzi Non ce l'ha bisogno Sì dovete dire così eh Allora io metto questi qua A calciare qui Anche se secondo me Sono totalmente inutili Però vabbè Eccoci qua Ho già 14 milioni Facciamo un altro collettino Siamo a 30 milioni E adesso ci compriamo Un po' di zone Ci prendiamo Neospecifico La spiaggia Ok E andiamo anche Nella zona del raggio Dimmi Non hai mandato il link Della mappa però E mi sono dimenticato Siamo soli Ci ho fatto caso adesso È vero che siamo soli Effettivamente non c'è Nessun consolino Diciamo è un po' vuota La mappa Poi ho fatto Ah ecco perché Allora guardate che gollo Incredibile Allora potenziamoci Dimmi che ce la faccio Io voglio ancora scoprire Cos'è quell'isola volante Con quella corona bellissima Ancora non l'ho capito Che cos'è Allora 250 mila Mi sa che li paghiamo E vediamo cosa ci porta E che Abbiamo pochi soldini Non so se lo vediamo Buongiorno Buongiorno Vediamo se riesco a tirare adesso Quanti soldi hai Fede Due milioni e due Due milioni Eh sono un po' naporaccio Speso tutto e non riesco ancora A tirare dalla luna Mannaggia Ma poverina Che scarsa Aspetta torno indietro Guardate qua Invece il tempo Come non ha problemi Precisione Poi se riesco No forse i miei calciatori Sono troppo lenti Perché No 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 Faccio prima Tornare sulla luna Continuiamo così Guardate che traiettorie perfette Allora Vediamo un attimo 892 milioni Mi servono Dai Non so come Dai Facciamo così Facciamo così Non spaccare nulla Torniamo sulla luna Ci compriamo Almeno la zona dopo Perché stiamo andando lentini Con il farm Quindi ci compriamo Questa zona Per 250 milioni Che è veramente tanta roba 2600 metri di distanza Se stiamo qua Qui ci sarà sicuramente Una zona con ancora più bonus Però Proviamo a segnare Secondo me Non abbiamo ancora la potenza Come pensavo Brutto Io mi sta che torno al razzo A fare un po' di Un po' di soldi Perché Non ce la faccio dalla luna E se mi potenzio così lentamente Non ce la farò mai E' interessante che la zona luna Viene considerata una Però se poi tu vai qua Hai il per 3 Perché è la base lunare multi Super incredibile Allora Con il 91% Siamo arrivati comunque a metà campo Quindi Secondo me Se riuscissimo a fare un 100% Da questo punto perfetto Ora si che faccio un botto di soldi Facciamo Che succede? Fica Ho preso il palo No Muori la gioia Allora forza Eccolo Precisione Eccolo Ed è gol 140 milioni 99% Dobbiamo per forza potenziare anche la precisione Perché Come vedete Iniziamo a rischiare un po' ogni volta Eccolo qua che ci riprova ancora Sta iniziando a prendere il ritmo Eccolo qui Eccolo qui un altro gol incredibile 363 milioni per lui Vuole fare un altro gol Attenzione Dai ce la devo fare adesso Mi sono potenziata tantissimo Palo Yes Ora si Ora si Facciamo precisione E poi ci prendiamo due livelli di potenza E dato che ci siamo Dai investiamo tutti i nostri soldi va Secondo me dobbiamo fare così al momento E continuare a farmare Perché qua Sì anch'io ho investito tutto E adesso dalla luna faccio dei tiri spettacolari Allora io ve lo dico Adesso cerco di fare un altro reberto Perché ci serve fare il moltiplicatore di nuovo Ma dopo di che Io voglio andare avanti nelle zone In zone che non abbiamo mai visto Esatto Non riesco a segnare ancora la qua La situazione è molto grave Ci dobbiamo mettere per forza in questo angolino qui ogni volta Fare in questo modo E adesso lato precisione Lato potenza Se facciamo dei buoni numeri Dovrebbe essere proprio una garanzia Quindi farmiamola qui E vediamo Con questo gol Arrivo agli 892 milioni Di cui ho bisogno Per fare Finalmente Il reberto Reberto numero 5 Facciamo al volo subito Ma no Perché ne hai così tanti Un gol Di cosa di reberto Eh io ne ho 3 Mi conosci bene Lo sai che è più potente qui Allora facciamo un bel per 10 subito sulla velocità Così possiamo correre Ma come Questa volta prendiamo il moltiplicatore E finalmente l'abbiamo potenziato Adesso a questo punto Per 10 qua Facciamo così Perfetto Facciamo subito Tipo un gol Da Questa distanza Ci prendiamo subito le zone Adesso il mio obiettivo È andare nelle zone successive Ve lo dico già Ok abbiamo 5 milioni Quindi quella da 5 miliardi Voglio andare in quella da 5 miliardi Wow Lo so Ce ne vuole E teoricamente Credo che finalmente Potrò comprare anche i nuovi palloni da calcio Quindi interessante Anche quello Allora Ogni tot Facciamo al volo un gol Giusto per potenziarci Ancora 20 milioni Abbiamo da poter spendere Quindi possiamo correre dritti qui Allora ormai il ritmo L'abbiamo preso Quindi ormai la situazione c'è A questo punto Bisogna appunto Riuscire A sbloccare Le zone più interessanti Quindi da qua Dovremmo ancora poter segnare Forse no Assolutamente Neanche per sbaglio Sto prendendo I palloni della luna Ma ho trovato solo schifo Al momento Ok Ma dai Due rari e uno comune Ma che schifo Allora facciamo così Fai vedere Ma penso che siano molto più scarsi del mio Andiamo alla spiaggia Ci giriamo Miriamo Molto più scarsi Gol incredibile Siamo già 26 milioni A poter spendere Quindi andiamo nella zona del razzo Perfetto Che poi mi considera ancora un principiante Da qua Cioè io dico Cosa deve fare uno nella vita Per non essere principiante Allora Maledetti infami Bomb 130 milioni Allora Quanto costa questa zona 70 milioni E noi iniziamo assolutamente A comprarcela Quindi Segniamo da qui Ce la facciamo Ma dove sei finito tu? Allora Sono alla zona del razzo Però per l'arri fatto il Roberto Ah ok Beh sì Certo Certo Quindi in realtà sono veramente incredibili Ma diciamo Qua sta comprando Con 70 milioni Possiamo dire che sono incredibili Sì Un po' troppo Qualcosa un po' troppo Allora Eccolo Esattamente quello che volevo Più Goal incredibile 200 milioni Quindi Teletrasporto Torniamo qua Ci prendiamo la potenza Ci prendiamo la precisione Potenziamo ancora un pochino Entrambe Torniamo Alla luna In questo momento Così E adesso 250 milioni Forse facciamo con un solo goal Addirittura Vediamo Non abbiamo la potenza Non ci posso credere Peccato Dimmi che da qua ce la faccio Che c'ho il moltiplicatore 2.5 Io però ho fatto un reberto E ora sono lentissimo Mannaggia Allora Dai 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 Eh no 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 Dai che ora ci potenziamo un botto No 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 Qua non ci siamo capiti Dobbiamo potenziali tutto su potenza E ripartire Let's go Di nuovo luna Allora a questo punto La luna la gestiamo per forza Proprio non ne voglio sapere niente Anche col 97% Deve essere goal easy Eccolo Eccolo E infatti eccolo qui Perfetto Quindi adesso accumuliamo i 250 milioni Compriamo di nuovo con la zona A quel punto dobbiamo fare i miliardi Quindi adesso 80 milioni per cassa Eh sì vabbè 0.85% 80 milioni Ma chi cavolo dovrebbe mai trovare Allora andiamo avanti Ho trovato Marte Secondo me devo già contentare Cioè Guardate Ne proviamo tre Perché mi sento veramente In una buona giornata Oh mio dio Il 0.85% Di possibilità Sotto l'1% di possibilità Sotto l'1% di chance Di essere trovata E la trova Lui Sium Allora Non ti vergogni neanche un po' Allora vediamo Da qui non riesco a tirare Devo andare a potenziarmi E' molto potente Questo è il mio nuovo colore Così 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 Forza Vedete guardate Ok Vediamo se basta A questo punto Noi torniamo qua E siamo obbligati Purtroppo Vedete questo ancora 6 Rebirth Purtroppo Quello che costa di più Che io posso prendere Però adesso è diventato questo Che andiamo 100 milioni Perché non posso Ah perché ce l'ho equipaggiata Attenzione Facciamo così Poi facciamo così Facciamo così Seleziona 70.000 gemmine Adesso Andiamo Di nuovo Ok si si ho preso Il più potente Che potevo prendere Andiamo di nuovo A prendere il nostro Bellissimo pallone Guardate l'effetto che ha E ora secondo me Spacchiamo tutto Cioè Ora facciamo dei numeri Che Fere si sogna Fere sei pronta? Vai Quanto fai? Salgo nell'altra base lunare Che mi dà il multiplier per 3 Col nuovo pallone Col nuovo enchant sul pallone Facciamo il nostro Primo gol E ci dà 350 milioni Non è normale Grazie Allora Nuova zona Questa qua da 450 milioni Che è una zona estesa Multiplayer per 4 Oh Bello Dimmi che riesco a segnare da qua Stiamo facendo dei progressi Finalmente C'è stato un inizio un po' lento Oggi ma adesso stiamo facendo Un progredimento importantissimo Eccolo che riesce a segnare da qui Ha fatto 500 milioni con un gol E' la miseria E' importante essere contento Di nuovo Un miliardo e 200 milioni Fere Ma come? Presta per un pochino Attenzione Attenzione Cioè dovremmo scrivere qua esattamente quanto guadagniamo per tiro Eeeh 450 milioni a gol Wow Direi niente male La prossima zona costava 5 miliardi Sì Quindi insomma devo mangiare in realtà ancora un po' di panettoni Ma ce la facciamo Perché vuole dire soltanto 10 gol in realtà Cioè se ci pensate è veramente poca roba Nel mentre ci riscattiamo anche le 3000 gemmine Io adoro questa mappa comunque Anche io Cioè la voglio finire te lo giuro Non so se è finibile Perché probabilmente poi aggiungono sempre zone Ma noi le giochiamo Dai anche gli aggiornamenti Allora posso già andare qua Io vorrei capire come faccio a essere ancora un principiante al 36% Cioè faccio il gol dalla luna La gente non segna nemmeno dalla porta Figuriamoci dalla luna Boh Sono potentissimo Allora questo è il gol che ci porta a 4 milioni e 8 E con questo abbiamo ufficialmente i 5 miliardi Che servono a comprare la nuova zona Che non abbiamo mai visto Andiamo Dimmi che cos'è vai Allora saliamo Secondo me passiamo dalla luna a Marte Potrebbe Per logica capito Potrebbe sì perché no Vediamo Upla Saliamo qui Andiamo qua 5 miliardi per sbloccare Marte Moltiplicatore di Marte per 4 Quindi sinceramente è molto meglio prendere la zona da 450 milioni Beh Se ci pensi Prenderò quella allora Eh sì decisamente Tanto ci arrivo molto prima di 5 miliardi Ovviamente non potevamo sapere questa cosa Certo Però sono stato scammato Possiamo dire la voce alta che sono stato scammato Un pochino Un pochino Sono stato scammato Volevo salire su quel razzo ma non ci riesco Secondo me tra l'altro da Marte non riesco nemmeno a segnare Quindi in realtà scam nello scam Vediamo un attimino Eeeh Ci riesci Ce l'ha fatta Ok dai almeno quello Guadagniamo un po' di più 20 milioni in più Wow Vediamo un attimino Ma tipo adesso il prossimo rebert costa poco Lo potrei già fare Però noi 3 più 2 Uh potremmo fare un nuovo multiplier Eh dovrei Dovrei Io se riesco a tirare da qui Perché c'è una sorta di torre L'estrattore della luna E sono lì super in alto Però vedi non ci arrivo Sto piangendo da un occhio No Ho dovuto fare un altro rebert No Ah Moltiplicatore del rebert per 5 Capisci Ok E' tanta roba Quanto costa a me il prossimo Ah 892 milioni Mamma mia quanto costa Facciamo così Facciamo così Facciamo così Facciamo così Facciamo così Noi adesso possiamo correre Ci giriamo all'ultimo Facciamo un gol da qua E probabilmente abbiamo già tipo 30 milioni Infatti 25 milioni dalla prima zona E' qualcosa di indecente Allora Però è bello fare tutti questi soldi Sì Cioè divertente Però sono triste di aver fatto un rebert Ma dovevo Era troppo conveniente Se andiamo da qua Secondo me Andiamo più o meno Oh no Non ci riesco ancora Ecco 100 milioni Perfetto Fatemi vedere A parte che ovviamente ci prendiamo Andiamo da qui In questo modo Facciamo così E rispendiamo ovviamente qua Perfetto Dopodiché volevo vedere Abbiamo sbloccato Il nuovo Vero? Sì Il più 45% Passiamo ad allenciante giallino così Allenciante giallino cosà Sembra più un sole questo Però abbiamo appunto questo vantaggio qua Che non è per niente male Mentre l'atto cassa Secondo me Dopo questo che è la base lunare Abbiamo la cassa di Marte Che però ovviamente dovremmo riottenere Mentre guardate il miglior numero di obiettivi Giocatori con più gol segnati 74.000 Cioè io dove dovrei essere? Il centesimo a 1.874 gol Io ne ho 265 Cioè capite? Sì Capite che il centesimo ne ha 1.800 Io ne ho 260 Sì La gente in queste mappe ci passa letteralmente la vita Pam Ok Io direi che ci fermiamo Sì purtroppo Siamo stati bravi Abbiamo visto le nuove zone Un punto di progresso Nuovo pallone Super mega raro Gli enchant super mega fighissimi Abbiamo di nuovo già un sacco di soldi Abbiamo il multiplier super mega OP Insomma secondo me Stiamo facendo un ottimo lavoro da calciatori Perché facciamo tutto tranne che giocare a calcio Però questo è un altro discorso Vediamo un attimino giusto per curiosità Da qua Quanto si guadagna con il nuovo multiplier Il nuovo pallone Vabbè Faccio già da questa distanza Dalla zona razzo Faccio 160 milioni È qualcosa di veramente indecente Noi ci fermiamo E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao